cari amici quest'oggi siamo in provincia di biella andiamo a tentare di catturare qualche spigola di acqua dolce ovvero qualche cavedano proviamo con un artificiale da 5 centimetri canna nomura a iki 2 12 grammi mulinello abu garcia trecciato 006 di shimano finale da 020 in fluorocarbon via primo lancio ormai nuota così cosa gli prende sta a fare qualcosa che non va mi sa che faccia anche montare qualcosa di un po più pesantino questo è sempre un 5 centimetri ma un po più pesante questo è sempre un po' più pesante non è molto più pesante non è molto più pesante è molto più pesante Nulla per adesso. Adesso vorrei tirare lì ma non riesco a... ... 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